Voi che vi trascinate di orgia in orgia e avete bagni e gabinetti caldi, non vi vergognate di leggere sui giornali le proposte per la croce di San Giorgio? Sapete voi, incapaci, numerosi, voi che pensate come meglio abboffarvi che in quest'attimo forse una bomba ha staccato le gambe al tenente Petrov? Se egli, condotto al macello, potesse all'improvviso vedere dal fondo delle sue ferite, come voi, con l'abbru unto di cotoletta, lascivamente canticchiate Severjanin. A voi, dunque, amanti delle donne del cibo, dare la vita per il vostro sulu piacere. Io, piuttosto, alle puttane in un bar, offrirò succo d'ananas.